E' caduto all'improvviso provocando un forte boato e tanto spavento, abbandonando con le sue radici l'aiuola di via Posidonia che divide in due il tratto di strada di Torrione poco prima dei semafori. Una tragedia sfiorata, quella che si è registrata questa mattina poco dopo le 8 con un grosso pino caduto che è piombato al suolo senza per fortuna colpire né persone né auto in sosta. Ma è stata tanta la paura tra i residenti e i pochi esercizi commerciali già aperti come la pescheria della zona, già al lavoro ma con gli occhi puntati alla pioggia che questa mattina aveva fatto sentire la sua violenza. In strada quasi non c'era nessuno, la pioggia aveva anche rallentato il suo ritmo e seppur in assenza di vento all'improvviso il grosso pino ha ceduto. Un pino che con la sua folta chioma che con il passare degli anni evidentemente non ha tollerato l'assenza di cura. Questa la voce insistente di chi stamattina si è trovato sul posto quando è venuto giù il grosso albero. Se nel caso della tromba marina dello scorso 25 settembre gli alberi della piazzetta di via Lucio Rofino furono letteralmente risucchiati, qui stamattina a Torrione si tratterebbe di un evento diverso. Gli alberi non cadono semplicemente per la presenza di un evento eccezionale come raffiche di vento o la pioggia insistente, ma perché sono malati e in questo caso, come gli altri pini che trovano alloggio nella stessa aiuola, di via Posidone a Torrione mostrano torsioni del fusto e radici che crescono in orizzontale in spazi inadeguati. Un chiaro segnale che manca un'assidua manutenzione, alberi che andrebbero valutati dal punto di vista della stabilità. Abbiamo avuto paura in quanto abbiamo sentito questo rumore e vedere l'albero che cadeva. Fortunatamente non c'era nessuno sotto, era un orario dove la gente cammina poco, altrimenti si poteva anche rischiare una tragedia. Voi eravate già aperti qui con la pescheria? Sì, sì, eravamo aperti. Siamo qui davanti alla porta, stiamo parlando tra di noi quando abbiamo visto l'accaduto. A che ora è successo? Era circa 8 e mezza, 9-20. Ma pioveva tanto? C'era vento in quel momento? No, pioveviginava e vento non ce n'era. Stava come adesso, stava bene. In tanti guardano questi alberi, gli altri che sono qui in quest'area, in questa piazzola e dicono che prima o poi cadranno anche questi. Sì, anche perché qualche mese fa, ma anche poi sono stati altri due alberi proprio qui davanti a noi. Sempre fortunatamente nessuno passava in quel momento, aveva danneggiato soltanto un paio d'auto. Ora aspettiamo che fanno a meno la manutenzione a questi altri due, in modo che abbiamo meno rischi. Hai sentito un forte rumore qui nella zona stamattina? Come nel passato è caduto quello là all'angolo qua. È caduto questo, credo che bisogna toglierli proprio. Una caduta così all'improvviso oppure in quel momento pioveva tantissimo? Non pioveva proprio, non pioveva nemmeno. È caduto normale. Come cadde quello il passato, 4-5 mesi fa. E ora credo che qualcuno sta per cedere ancora. È la sensazione che prova quando vede questi alberi così che cadono? Ormai sta capitando spesso. È una manutenzione che non c'è. Fanno una manutenzione personale che non sono adatti alle aree verdi. Persone che non è un... Ci sono state anche delle auto danneggiate qui? No, per fortuna nessun auto e nessun passante è stato danneggiato e ferito, fortunatamente. Adesso la preoccupazione è per questi altri alberi? Questi altri alberi lasciamo fare ai vigili del fuoco, sperando che si risolve un po' la situazione perché è molto grave. Grazie a tutti.